che è quello come fai ad essere qua cazzo ma dimmi se devo andare a liberare mia cazzo di moto a piedi ma porca eva hai visto quel video di game theory in cui misura il cazzo di luigi e scopre che c'è la lungolo 6 e 15 centimetri luigi c'ha il cazzo lungo 15 centimetri non sono cazzate è importante è importante ricerca tecnologica come ti permette api no api no stai fermo stai fermo sei mai via 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 appi devo chiamare un attimo devo chiamare l'assistente non chiamare l'assistente dov'è l'assistente assistenne ma allora se ma allora c'è io ma mi sembra davanti uno diventato davanti tu lo prendi a pugni giusto sì va bene va bene lo faccio vedere cos'è oh sì un mio grazie fra grazie arturo vaffanculo ti ho salvato cazzo ma che cazzo mi stiamo fallo scarico meravigliato no vabbè sono il cazzo nella polizia non voglio esplodere no salì è rotto il 4 è rotto il 4 perché no non mi butta no calda kitty kitty dolce kitty coso kitty cazzo lol ho un attimo di polizia addosso aspetta no 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 non ho mira non me leggi il messaggio non entra nella chat vaffanculo e vabbè sarà un ragazzo impegnato Dio è sbagliato guarda le tine goddamit goddamit ue 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 fr 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 cosa cosa ha fatto api mi sono buttato sopra di te cazzo ho un po' ho un po' vatti vabbè vabbè Grazie.